Pressione in temporaneo aumento in attesa di una strutturata perturbazione tra giovedì e venerdì caratterizzata da un forte flusso di scirocco con forti temporali e temperature in rialzo. In Toscana giovedì 13 ottobre nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse, in serata piogge più intense sulle zone settentrionali, venti forti di scirocco sulla costa, moderati orientali nell'interno, mari mossi o molto mossi bacini a sud dell'elba, poco mossi sotto costa, mossi a largo quelli settentrionali, temperature minime in aumento intorno a 10 gradi, massime stazionali. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge anche forti in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 9 massima 18 gradi, in Versilie sul litorale minima 12 massima 17, in Garfagnana e zone montane minima 7 massima 16 gradi. Venerdì molto nuvoloso coperto con piogge temporali, temperature in deciso aumento.